Siamo a Venlo, la prima cittadina olandese dopo aver lasciato da pochi chilometri la Germania, la nostra quindicesima nazione che tocchiamo, attraverseremo il fiume che si chiama Maas, la prima a sinistra, proseguiremo verso sud, andremo a prendere la 273 verso Barlo, che ci porterà direttamente, ecco infine con il Belgio. Se l'Olanda l'abbiamo toccata solo per circa 50 chilometri abbiamo notato una cosa secondo me di un'alta classe sociale, noi non capivamo perché c'era il divieto ai trattori, sulle strade statali mettevano un preavviso di divieto ai trattori su un pezzo di strada, però ti davano l'alternativa di potersi schivare, lasciar passare la colonna delle macchine e poi rientrare il luogo sulla strada. E dove hanno potuto ti hanno dato proprio la strada, esatto. Secondo me alta classe, bici, trattori, macchine, spettacolare.